Sabato 22 luglio, buongiorno da Giuseppe Recca, le notizie di questa mattina. Il caldo torrido e il vento continuano ad alimentare incendi che non risparmiano tutto il territorio siciliano e dunque anche la provincia di Agrigento. Fiamme ieri a Menfi incontrata a Cavarretto dove per parecchie ore il fuoco ha cancellato vegetazione spontanea a Olivetti in un'area privata. I vigili del fuoco sono riusciti ad evitare che l'incendio coinvolgesse immobili, interventi anche da Agrigento, Castrofilippo, Canicatti e Naro. Il governo regionale ha dettato nuove direttive ai manager delle aziende sanitarie provinciali per risolvere il problema del personale carente negli ospedali che determina emergenze in tutti i reparti e in particolare nei pronto soccorso. Per quest'ultimo il provvedimento prevede nuove turnazioni del personale di ruolo e l'autorizzazione ai commissari di nuove assunzioni ma anche di appaltare alcuni servizi all'esterno e concedere straordinari che oscillano dai 50 ai 100 euro all'ora per chi accetterà lavoro extra in reparti più in crisi. Di servizi in diverse zone della città di Sciacca per interruzione elettrica da parte del gestore del servizio. Si tratta di lavori di manutenzione programmati che dovrebbero però essere rinviati viste le alte temperature. Molte famiglie hanno segnalato il problema e hanno invitato le autorità comunali ad intervenire per assistere i cittadini. È anomalo che per diverse ore della giornata non ci sia energia elettrica in orari in cui il gran caldo impone l'uso di impianti refrigeranti. È stato ritrovato a Roma il sacenze Fabio Lacognata di 41 anni di cui non si avevano più notizie dallo scorso 6 luglio. Lacognata sta bene ed è tornato nelle scorse ore a Sciacca. I familiari avevano presentato denunce ai carabinieri. Sono stati avvisati da un'associazione di volontariato laziale che si occupa di gente scomparsa. Il tema degli alloggi per studenti universitari fuori sede deve essere al centro dell'agenda del governo regionale che non può restare in silenzio di fronte all'inefficienza a sua volta del governo centrale. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana. Il rischio, dice il deputato Sacenze, è ormai sempre più concreto di perdere centinaia di milioni di euro del PNRR destinati a questo scopo. Due ricercatori dell'Università degli Studi di Palermo e del Centro Nazionale per la Biodiversità si trovano in questi giorni a Lido Fiori Menfi per effettuare studi su due specie di granchio cosiddetto fantasma che da alcuni anni si trova nel Mediterraneo, in numero sempre maggiore. I ricercatori sono stati accolti dalla locale amministrazione comunale. Con loro c'è, per dare sostegno logistico e seguire da vicino le operazioni, l'assessore comunale all'ambiente Ivan Barreca. Partirà oggi pomeriggio il ride Sciacca-Palermo-Sciacca in notturno organizzata dal Vespa Club Sciacca-Terme e che vedrà protagonisti circa 50 equipaggi provenienti da tutta la Sicilia. Il ride si svolgerà con appuntamento per le iscrizioni e le verifiche alle ore 18 in Piazza Noceto. Poi alle 19 partenza per Palermo l'appuntamento Sacenze inserito nel campionato turistico regionale. Questa mattina il simulacro di Maria Santissima del Soccorso è stato sceso dalla nicchia e collocato nella vara al centro dell'altare della chiesa madre di Sciacca. La discesa della statua rappresenta la prima tappa di avvicinamento alla solenne processione del 15 agosto prossimo. Erano presenti le autorità cittadine. Migliaia di giovani provenienti da tutta la Sicilia sono attesi a Sciacca stasera e domani sera per la manifestazione Green Valley Pop Fest, festival musicale tra gli ospiti d'eccezione e la cantante Fedez. Per questo evento è stata messa un'ordinanza di divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche avente gradazione superiore a 5 gradi, nonché di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro e lattine in tutto il territorio comunale. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito. Buon sabato e buon fine settimana dal Corriere di Sciacca. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.